salve questa lezione verrà divisa in quattro video perché è molto lunga e parleremo dei luoghi comuni quelli che ci fanno vivere relazioni malsane oppure ci evitano di incontrare persone giuste a causa del nostro atteggiamento errato creato da queste convinzioni oggi vedremo le prime tre e iniziamo con la prima gli uomini sono tutti stronzi quando vedo qualcuno che scrive o che dice questa frase in genere provo sempre una certa compassione perché la ragazza che pronuncia queste parole ha evidentemente incontrato qualcuno che l'ha fatta soffrire questa ragazza secondo me in parte ha ragione perché molti moltissimi uomini si comportano con poca sensibilità nei confronti delle donne e questo perché prima loro mirano a soddisfare i desideri del loro ego e poi a pensare ad amare gli uomini e le donne portano uno scudo che serve per difendersi ma al tempo stesso non lasciandolo andare non siamo in grado di amare con tutto noi stessi poi mi volevo chiedere ma quando dite gli uomini sono stronzi cosa vuol dire stronzo vuol dire essere un traditore beh in questo caso avete ragione ci sono tantissime la maggior parte degli uomini che non sono non riescono essere fedeli e questo a mio avviso è dovuto a una mancanza di sensibilità se il partner non ha una sensibilità che lo porta ad allontanarsi da queste situazioni di tradimento noi non possiamo farci nulla perché ho questa sensibilità ce l'hai o non ce l'hai non c'è un altro modo per capire perché le persone si comportano così non so se è questo il motivo cioè ovvero questo modo di vedere le persone che comunque mi ha messo di fronte a poche persone stronze nella mia vita che avevano questa indole con la loro indole non intendo che loro non siano capaci di decidere indendo che nella maggior parte dei casi l'uomo sceglie sempre la via più dolce quella più facile però quella che magari li fa crescere di meno quindi capire il perché una persona si comporti in questo modo mi ha aiutato a comprenderli meglio a essere diciamo più tollerante verso di loro perché spesso dietro a questi comportamenti si nascondono insicurezze e infelicità quindi dopo un po il considerare stronzo una persona diventa io non approvo il suo comportamento però lo vedo non come un attacco nei miei confronti ma come l'unico forse il più facile modo che lui aveva per trovare un po di conforto un po di facilità di felicità quindi diciamo che non è traditore per per cattiveria ma lo è per necessità il secondo luogo comune che affrontiamo è le donne sono puttane questo luogo comune è un po diciamo l'omologo al femminile degli uomini sono tutti stronzi personalmente nella mia vita non ho incontrato quelle che potrebbero essere definite puttane da qualcuno magari è un qualcosa diciamo di soggettivo perché uno magari basta che una ragazza si resta in maniera provocante già la definisce puttana però insomma io comunque ho avuto a che fare con delle ragazze in gamba ho avuto a che fare con delle ragazze insomma che magari soffrivano di alcuni problemi esistenziali e che magari questa cosa le portava a non essere fedeli né a loro stesse in primis né ad altre persone in ogni caso ho avuto comunque la fortuna il piacere di incontrare persone donne nella mia vita che stimo e che sono diventate per me delle delle ottime amiche il fatto di considerarle come punti di riferimento persone a cui ispirarsi mi ha comunque permesso di avere un bel rapporto con loro non è sempre stato così nel periodo in cui io odiavo le donne anche se non c'era un motivo reale che mi giustificasse dal farlo avevo comunque dei rapporti malati con con le donne cioè nel senso che io comunque avevo una visione estrema e non avevo dei veri rapporti cioè ero proprio privo di questo tipo di rapporti quindi secondo me le due cose vanno di pari passo più avanti parleremo anche di seduzione magari vi citerò anche alcune esperienze che ho fatto e che ho fatto in un periodo molto vicino cronologicamente a quello in cui avevo un odio per le donne un odio che diciamo è nato dal desiderio di apprendere diciamo i meccanismi della seduzione per manipolarle e non per avere diciamo una conoscenza che da dedicare un aspetto nobile come magari faccio oggi il fatto di vedere questo mondo della seduzione in maniera negativa cioè quindi c'è che manipolare le donne perché insomma io mi sentivo in torso con il mondo cioè mi sentivo di avere un credito nei confronti del mondo mi ha fatto proiettare questo desiderio di manipolazione nelle donne quindi era automatico che pensassi che poi le donne fossero delle doppi giochiste manipolatrici in realtà la verità sta sempre in mezzo è vero che magari ci sono delle donne traditrici ci sono le donne che manipolano che usano dei giochetti ci sono le donne che magari entrano in questi meccanismi ma non ne sono le carnefici sono magari le vittime di un sistema patriarcale che è molto diffuso in italia ad esempio il fatto di giudicare magari una donna che trattando sesso come una donna sporca non fa vivere a loro una relazione diciamo molto trasparente da quel punto di vista e quindi magari molte donne non fanno vedere quel lato di loro privando anche di bei momenti di momenti di felicità di sincerità più che altro gli uomini perché si trovano con donne che hanno paura di di essere diciamo giudicate per quel loro aspetto e quindi vi insomma vi esorto a cercare di vedere la verità oltre le cose nel senso che magari di fronte alla vostra brutta realtà c'è anche una pari brutta realtà dall'altro lato quindi di ragazze che hanno bisogno di una costante approvazione che vivono nell'insicurezza e vi metto in guardia insomma da un'altra cosa ovvero che spesso il fatto di vedere le cose brutte non va altro che attirarle ancora di più prima di chiudere questo video mi occorre analizzare l'ultimo dei luoghi comuni i belli hanno una vita facile ho conosciuto due ragazzi nella mia vita che potrei definire belli che potrebbero facilmente essere dei modelli e quindi vi porterò loro come esempio io ho conosciuto questo ragazzo che è un mio amico che nonostante lui sia un bel ragazzo attraente e nonostante non sia per nulla imbaciato sia molto insomma molto una persona in apparenza magari sicura perché comunque c'ha la battuta nelle sue corde c'ha una risposta insomma intelligente e quindi diciamo che per molti sarebbe considerato un uomo alfa tuttavia è intrappolato in questa situazione lui conosce molte ragazze attrae molte ragazze tuttavia dopo qualche settimana queste lo cominciano a ignorare poi lo scaricano oppure semplicemente lui che non trova la ragazza che gli fa perdere la testa è da anni intrappolato insomma in questa situazione che non riesce ad affrontare un cambiamento e di trovare quello che sta cercando e lui potrebbe provare un pensiero che gli fa magari preferire di essere meno bello però avere una relazione appagante invece l'altro ragazzo sembra che ha un bel fascino insomma attrae molte ragazze è stato con molte ragazze ha avuto anche relazioni più lunghe non mi trasmette questo desiderio di voler fare a cambio con la sua vita visto che è più bello di me perché quando lo guardo mi sembra di avere a che fare con un manichino c'è una persona che dentro non si porta nulla e che si porta semplicemente un mare di solitudine anche se magari può essere una persona cioè anche divertente insomma che non lo vedi mai triste ecco però mi dà sempre questa sensazione non mi non mi riempie con la sua compagnia questo per dirvi che i ragazzi belli hanno sicuramente la vita più facile per determinate situazioni però se non è stata la bruttezza a farli soffrire non è detto che non possa esserci qualche altra problematica nella loro vita che la rende una vita meno bella rispetto a quello quella di uno un ragazzo bruttino bene questi sono i primi tre luoghi comuni ci vediamo presto per il prossimo video sui luoghi comuni